Anche quest'estate Elite Viaggi ti garantisce una grande vacanza a un piccolo prezzo e per tutti un borsone da viaggio con bandana mare e ombrellone in regalo. Inoltre, con ogni pacchetto famiglia, la vacanza per i tuoi ragazzi è gratis. Scegli una delle nostre grandi offerte. Speciale pacchetto 4 persone, 7 notti in pensione completa nei villaggi di Sicilia, Calabria e Puglia. Con piscina, animazione, mini club e ragazzi gratis a soli 600 euro. Malta, 3 giorni in catamarano, con pernotamenti a San Julian, colazione, trasferimenti e mini crociera delle tre isole a soli 179 euro. Croazia, 7 notti a 329 euro. Ibiza, 7 notti a 459 euro. Isole greche in nave più 7 notti in residence a soli 99 euro. Crociere, 7 giorni sul Mediterraneo a soli 390 euro. Biglietti aerei super scontati e zainetto bandana mare in regalo. La tua vacanza è garantita. Se scegli Elite Viaggi, a Rosolini, in via Manzoni 46. Info e prenotazioni allo 0931 50 34 33 e 0931 58 07 23.